Salve a tutti ragazzi e benvenuti a SIVA in questo nuovo video di Borderland Ho risistemato l'audio, siamo a posto Possiamo andare avanti a consegnare la quest Dunque devo andare qua, ma così qua li butterei, così salvo anche Senza il suo rispetto, perfetto E andiamo pure, naturalmente ero nella direzione sbagliata E vediamo cosa fare, caricato, caricato Qui abbiamo preso le munizioni Vediamo cosa c'è qui Sento, arrivo, arrivo, rilassati Mamma, mi sono tutti agitati in questi giochi Fatta Ok, me l'hai dato La cosa mi interessa alquanto La vorrei usare già, grazie, molto gentilo Così in modo da migliorare altri di tre il coso Lui si alza Bene Sei contento, sei felice Bene, siamo tutti felici L'altra quest era finita Ed era questa E devo ritornare indietro Ma cosa c'era in quel kit di riparazione della droga Va bene, andiamo pure avanti Se è felice lui, siamo tutti felici Dunque, la direzione spero sia questa Io riesco a perdervi ovunque, anche a casa mia Mi serve la mappa per andare anche al bagno Allora, andiamo pure avanti Sempre dritto per dritto E vediamo cosa succede Se non sbaglio strada Vediamo un po' Sì, stavo sbagliando strada Qua e poi a destra Bene Dovrei avere la strada La via libera Perché ho ucciso tutti Non dovrebbero essere esponati A meno che non esco e entro nella stessa zona E non sono... Vediamo cosa fa questo da vicino Eh, fa abbastanza direi E sono anche salito di livello Sì, sì, arrivo, arrivo Arrivo anche da voi Arrivo anche da voi Ecco qua, bravi Eh, penso proprio di sì, ragazzo Penso proprio di sì Che gli sia piaciuto parecchio Bene Vediamo se... Ho preso qualcosa di utile No, stavo livellando, giusto Scusate, mi sono un po' distratto Vai E un altro punto Bene Si stiamo avvicinando al nostro obiettivo Non manca molto Alla fine i due livelli si fanno abbastanza in fretta Anche perché le quest che ho in questo momento Sono piuttosto di alto livello Venderei un po' di cose 153 151 149 Non ho niente di buono In... Inventiamo In... Vendiamo un po' di roba Eh... Questa pistola mi piace Molto Eh... Sì, mi piace Perché la venderei Il fucile no Questo è il 94 Eh... Allora facciamo che vendiamo questa E mi tengo quella 64 Niente E questa pistola 32 Nulla Queste sono le mod Non mi interessano per il momento Perché mi interessano quelle solo più potenti Questo è uguale Riempitiamo via Ecco qua Bene Abbiamo liberato un po' l'inventario Meglio così Perché può sempre tornarsi utile Prendere qualcosa Andrei pure avanti A consegnare le quest Benissimo Ok Via E adesso Sono nella prima zona Quindi dovrebbe essere molto molto semplice Riuscire a Arrivare Io Andrei a prendere Il mio Fedelissimo Questo Certo Subito Adesso mi ha fatto Eh... Sì 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 Devo girarmi Come al solito Sono in direzione sbagliata Ecco qua Eh... Devo andare dritto Poi girare a sinistra Va bene Andiamo dritti Scusa se sei nella strada Ok E poi girare a sinistra Perfetto Dovrebbe essere questa la strada Benissimo Finalmente non mi perdo Ed era anche ora Allora Mi ricordo che Quel cut trap Purtroppo non ho sentito Aveva detto qualcosa No Non è da lui E allora è a casa mia Eh... Vediamo un po' Devo ancora fare quella quest Interessante dell'arena Che mi ha massacrato Eh... Dopo ci vado Vado già che ci sono Dovrei avere il livello giusto Eh... Per farla Eh... Non sarebbe male Non sarebbe male Perché l'arena Eh... Ah il vendor fuori In più Dovrebbe darmi Una ricompensa Che mi ricordo Era utile Eh... Fosse utile Non hai ancora trovato la cripta Ma... Ragazzo Sono all'inizio del gioco Buono Migliorare la verità Eh... Bene Mi interessi Eh... Non era lui Che mi dava la quest Accidenti Eh... Non l'ho sentito Dovrei ascoltare il video Per capirlo Chiamami Se posso aiutarti Lui vuole sledge Ancora Non ci siamo Questo dovrebbe bastare Giovane Eh... Va bene Vediamo un attimo Eh... Cosa poter fare Era L'arena Eh... Questa è buona Perché mi dà come di compensa Un combat rifle Eh... Questo qui invece dà Eh... 18 15 17 Eh... Non è male Non è male Non è male Eh... Proviamo a fare questa Eh... Qui non c'è niente Vero Va bene Eh... Siamo a livello 18 Chi è? Ha due tacche Vediamo un po' Eh... Di toglierci Dalle scatole Questi Ma... Ma neanche no Allora vediamo dove devo andare Eh... Di preciso Scusate Sbaglio sempre Eh... Piuttosto lontano Va bene Mettiamoci in cammino Se è così lontano Ci sarà motivo Scusatemi Eh... No Non penso Ops 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 Bene Eh... Dunque Devo fare tutta la strada E poi girare Vediamo un po' Dove devo girare Sì Eh... Devo fare proprio quasi tutta Credo di aver capito Eh... Sì Di dove sia Me la ricordo vagamente Andiamo pure Ok Vai così grande Dovrebbe essere qui vicino all'arena Eh... Siamo già Io quasi qua Ricciandrei all'arena Perché Sono qua Eh... Il livello non era tanto sbagliato Bene Bene Proviamo Sono livello 18 Il massimo sarà 19 Eh... Eh... Stavolta però Dovevo farlo con questi Vediamo un po' Cosa mi dici Eh... Ecco Round finale Eh... Livello 18 Dai Eh... Ce la possiamo fare Vediamo Se è così ostica Come sembra Vediamo Sono qua Eh... Perché no Vediamo un po' Chi apre Ok Queste Sono abbastanza facili 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 Eh... Se la ripete Aspetta Scusa Non vorrei Perdere Troppa vita Ok Ne ho preso un po' E non ho perso vita Alla fine Meglio così Molto meglio così Allora Aspettate Aspettate E aspettate Un attimo Non siate così impulsivi Ok Non ho perso Se mi si ricarica La cosa Sarebbe meglio Ok Sono una cosa continua È un'ondata Continua No Ok La vita L'ho persa Adesso Oh mamma Mi hai fatto Prendere Un colpo Accidenti È Piuttosto Ostico Farlo Ok Andata Allora Ho tirato Una bomba Accidenti Scusatemi Mi sono confuso Infatti La È dove andata a finire L'ho ucciso L'ho ucciso Non me ne sono mica accorto Sai Beh Meglio così Da questo L'ho fatta Andiamo pure a ritirare la ricompesa Stavo Messo non tanto bene Meglio così Meglio così Se mi ricarichi No È la vita Ah Perché non me l'hai fatta fare C'è qualcosa che non mi quadra Ma Non ho capito Perché si sia Resettato L'arena Vabbè Comunque questi Mi dovete avere contatti Tutti Dove siete È inquietante Non sapere Dove siete Oh 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 Ah Ah Apri la boccuccia Apri la boccuccia Apri la quella boccuccia Accidenti Vabbè Vabbè Siete troppo Cattivi Com'è Eh no Non ce la faccio ancora No dai Che sfortuna Ragazzi Un caricamento Veramente assurdo Oh Bene Dov'è Ma Mi si è resettata Di nuovo l'arena Ah no Ok Ha preso Eh no Questa è dura Eh Puoi Puoi Non ti preoccupare Che ci riesci benissimo Oh Ce l'ho fatta Oh Bene 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 Usiamo questo Perché è meglio Usiamo questo Perché è meglio Eh No Oh Il critico Non ho fatto niente Il critico Proprio Niente Eh vai Devo ricaricare Proprio adesso Eh 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 no 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 Bene Gli ho fatto un po' di danno Ma lui me ne ha fatto Anche di più Ok Dov'è andato? Accidenti Lo so Accidenti Le ho finite Accidenti È dura Mi scappa da ridere Ok L'ho preso Sì la bocca Mamma mia Vediamo un po' No perché di fuoco Accidenti Non fa niente Dai Scorri Mamma mia Mi sono impappinato Con la tastiera Dai 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 Ce la facciamo 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 Mamma mia Oh Ce l'abbiamo Fatta Non mi ha neanche dato niente Però ce l'abbiamo fatta Oh oh Mi sono sparato Un arsenale intero Di proiettili E non mi ha dato nulla Vabbè Però ce l'abbiamo fatta Alla fine E questo è l'importante È stata piuttosto impegnativa Ma almeno me la sono tolta Dalle scatole Cosa mi dai? Niente Molto gentile Grazie Ah Eh 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 Questa Incominciamo a ragionarci come pistola Perché ha uno zoom bello Ha un 98 di potenza La voglio senza nessun rispetto Immediatamente E L'equipagerò subito È blu Eh sì Ci voleva Ci voleva Ah ci voleva Sì sì ci voleva Non so quanto precisa sia Ehm Però la voglio provare Senza nessun rispetto È stata veramente dura Lo ometto Pensavo di non farcela Va bene Mi assicurerò Di essere Quella persona Che ce l'ha Ok Ho cercato di fare Il possibile Ok Vediamo Prendere anche un po' di queste Ok Adesso vediamo Oddio Mi sono sbagliato Pussante Vediamo un po' di cose Ah il manufatto Cosa vendo che non ho niente Non mi ha dato nulla Il manufatto Eccolo qui Eh l'ho equipaggiato Ottimo 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 Vediamo se c'è qualcosa Di buono 130 Io ho 160 Sei proprio cattivo Vediamo un po' 118 Non c'è nulla Vediamo qua No No Ah Va bene Lo farò più avanti Andiamo pure avanti Non ci credo ce l'ho fatta Sono contento Ho sbagliato strada Perché io riesco a perdermi ovunque Anche a casa mia A quanto pare Ehm Ragazzo Cosa c'è che non riesce a passare Eh A un certo punto Incominciamo a Ehm Preoccuparmi Ok Ha salvato La strada è quella giusta Andiamo pure avanti Va bene Mi hanno spaventato Ehm Qua sono pieno La pistola la voglio provare Senza Alcun Ecco Ok Vabbè Questi sono livelli facili Si sa Però Vedo che Oddio Scusami Vedo che Ha un bello zoom Ha un bello zoom È abbastanza precisa Mi hai dato cose che mi interessavano moltissimo Ti ringrazio Eh La voglio provare La voglio provare E voglio vedere quanto è messa la skill Eh Perché se Incominciamo ad esserci A 5 Non è male Quasi come sei Il Fugile di ciclino Che ho usato tantissimo Ottimo Andiamo Ho sbagliato Posizione Ho preso il culo invece Della pancia Della faccia Vediamo un po' Devo andare Qua Ma mi hai selezionato La quest che mi serviva a me Probabilmente no 17 e 15 Eccola Questa mi serviva Ehm Ecco qua Il combat rifle È da queste parti Mi ricordavo infatti Che era Forse vicina Ecco Questa Non è difficile come quest C'è un sacco di gente Però Molto fastidiosa Ehm Un pezzo E qua E già l'ho trovato Vediamo un pochino Scusa Oh Questa pistola Mi interessa molto Mi piace veramente Tanto To Eh no Ecco qua Ma porca Sono caduto Come ho fatto a cadere Cioè adesso Per riuscire ad arrivare Quassù Sai quanto strada Mi tocca fare Mi tocca Perdermi quelle 40 volte Eh sì Mi tocca Perdermi quelle 40 volte Devo fare il giro Di qua Vediamo un po' Se riesco a salire Ok Forse ce la faccio Vediamo un po' Se la strada è giusta Sì È un po' Ostica Eh arrivo Arrivo Purtroppo sono caduto Sono sempre molto distratto Però Dove farcela Dai dai Stiamo salendo Ok Andiamo un po' Cos'è che devo saldare Oh Salda Salda questo Salda Eh Aspetta Aspetta Oh Ma l'ho preso In faccia Ma Come fate col mitra A fare dei colpi Così c'è Vabbè Andiamo un po' Oh Oh Così mi piaci Vediamo un po' Se c'è qualcun altro Questo Oh Così mi piace Eh l'ha sentito sì L'ha sentito sì Vorrei evitare Di saltare in aria Se mi sparano Non è la prima volta Ma anche questi adesso Dove siete Uccellacci Mi dai il fucilo Eh Che bello Doveva caricare In quel momento Eh Sennò non era felicio Non era felicio Ok Oh scusate Ho toccato il microfono Adesso vediamo Di ammazzare tutti Senza nel suo rispetto Senza nel suo insegno Ecco qua Oh Si farà così Accidenti Mi avete fatto male Va bene Andiamo Di pistolina Chi è ancora? Dove sei? Ah ma sei qui Eh sì Anche a te ti conviene scappare Ecco qua Oh Eh Presumo di sì E lo spero tanto Diciamo qua Perché non ho voglia Di esplodere In malo modo Vediamo se è qui Il posto Dovrebbe essere Oh che bei posti Che ci sono Bene 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 Andiamo pure avanti Ho caricato Sì dovrebbe essere qui Eh Il posto Esatto Adesso con molta calma Cerchiamo di farcela Perché non voglio morire E così si fa Perché questa pistola È buona anche Senza mirare Vediamo un po' Zaccate Bene così Bravo L'altro pezzettino qui Bene così Andiamo pure avanti Dovrebbe essere Un altro Eh sì 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 Eh mi è piaciuta Mi è piaciuta Vediamo di fare piacere Anche ci Questa Perfetto Grande così Carica pure Con tutta calma E tranquillità Eh ce n'era un altro A meno che non sia Un pezzo volante Va bene andiamo avanti Ma certo Che sarei dovuto venire Non ti preoccupare Sono venuto a prendere un caffè E un tè Se me lo offri Eh Vediamo un po' Se c'è qualcosa qui Non c'è niente Vediamo un po' Di andare dal tipo Che voleva offrirvi da bere Eh Vediamo un po' Oh Bello Bello Eh non so Dove sia Dov'è Eccoci qua Oh mi dispiace Eh purtroppo è successo Tanti saluti Alla zia Ecco un altro pezzo Ce ne manca Uno Uno solo Penso di ricordarmi Vagamente dove si trovi Oh Uno solo Che peccato Quanto fa questo? Eh Ah è un mod Eh però costa tanto Lo prendo senza Il suo ritegno Eh questo qua Mh 3000 Ma prendiamolo Andiamo a prendere L'ultimo pezzo Che Eh Se non ricordo male Era Da qualche parte Qui Ecco Oh guarda Neanche fa l'opposto Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui Bene Preso Li ho presi tutti Possiamo andare Eh Assolutamente A casa E ci salutiamo Vorrei prendere Senza il suo rispetto E senza il suo ritegno Questa roba qui Ok Bene Andiamo pure Eh Alla macchina Questa gente è morta Eh Perché si è volata Su una buccia di banana Eh Non ci si può fare niente Ok Andiamo pure Alla nostra macchina E andiamo a casa Bene È andata bene Ottimo così Ottimo così Vediamo un po' Eh Casa nostra Per piccina che tu sia Eh Mi devo andare di qua Bene Eh Scusa Sei un po' in mezzo Era già morto Meglio così Bene Eh Non sono un ottimo guidatore Lo ammetto Ho ammaccato Un sacco di macchine Eh Di Catch a Ride Bene Eh Continuiamo Qui Siamo ormai arrivati Bene 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 Siamo arrivati Ottimo Oh Mi è sceso dalla parte giusta Sono felice Eccoci qua Bene 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 Ok Perfetto Bene La quest è finita E mi hai dato Un mitra Vabbè Lo venderò Non costa neanche tanto Vabbè Non sono per i mitra Chi mi segue già da un po' Lo sa Però Niente male Lo stesso Va bene ragazzi Direi che Ci possiamo salutare Per questo video è tutto Ma ci vediamo al prossimo video Di Borderland Continuando a salire Di livello ancora Per cercare di migliorare Sempre di più Le skill Sia di livello Che di Utilizzo In modo da poter Riuscire a fare più Headshot E One shot Bene ragazzi Io Vi do un saluto da Shiva E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi